eccoci, grazie Michele per il tuo tempo, questa volta noi di Otcon volevamo trascinarti letteralmente dentro una conversazione sul cinema, visto che da sempre la tua musica ha dei riferimenti, delle citazioni a film o a personaggi, quindi la prima domanda è quanto una visione poi influenza quello che poi canti, che scrivi? Beh tutto influenza in realtà, tutto ciò che è creativo influenza la mia scrittura, che è soltanto una delle parti creative, dei mondi creativi che gravitano intorno a me. Di solito quando si dice questo si tende a parlare della propria creatività, ma io in realtà sono un fan della creatività altrui e quindi mi circondo di musica, di libri, di fumetti che amo da morire, di film, insomma tutto ciò che in qualche modo può solleticare, farmi arrivare qualcosa attraverso il linguaggio alternativo al linguaggio e quindi quello dell'arte, fondamentalmente quello della creatività. Tra l'altro scusa, quella è una maglietta di Bucciarbilli? L'artista è sua quella? Non lo so, non so se di Bucciarbilli, ma so che è The Cure, quindi... Sì, 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 perché è lui che rielabora le... Sì, sì, può darseli sì, sai... Sì, 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 fa delle cose fantastiche. Sì, diciamo, quello che ti volevo dire è che fondamentalmente tutto è influenzato da qualcosa. Poi tra l'altro quello che noi vediamo, che ascoltiamo anche distrattamente, secondo me funziona come nei sogni. Cioè non siamo noi ad avere il controllo di ciò che viene fuori dal nostro subconscio. Noi ci nutriamo non solo di quello che accade a livello naturale fuori dalle nostre case, ma soprattutto di quello che accade dentro le nostre case, nelle nostre riflessioni, nelle nostre scelte di ciò che vogliamo vedere, ascoltare. Tra questo ovviamente c'è anche la cinematografia che... C'è tra l'altro... Sì, che mi... non so come dire, in questo caso è nato tutto da Fellini, tutto questo disco un po' ispirato, è un po' figlio di un personaggio in particolare, cioè di Guido Anselmi, di otto e mezzo, perché Fellini io l'ho capito tardi, in particolar modo otto e mezzo, che l'ho visto quando ero adolescente, e penso di essere durato dieci minuti, non riuscivo ad andare avanti oltre il decimo, non avevo ancora questo grande amore evidentemente per certe tematiche. Adesso che ho più o meno, dai, l'età di Guido Anselmi, comunque vivo quel tipo di proiezioni, di situazioni, mi sono immedesimato subito. La stessa cosa mi è accaduta, o mi accade quando vedo dei film caustofobici, perché mi piacciono parecchio. Calcola che il mio film preferito, anche se cambiano... Di sempre, esatto. Però diciamo, a grandi linee, un film irremovibile, nella mia vita è 2001, Odissea nello spazio, che è un film, sì di fantascienza, che si muove sì nello spazio, quindi nella massima espressione della libertà, ma in realtà è crostofobico, perché senti tutta la crostofobia dell'uomo davanti alla macchina, dell'uomo solo con la macchina, dell'uomo all'interno di un posto assente di vita, dell'uomo che gravita in uno spazio assente di vita. E molto spesso io, in un mondo che pullula di vita, ho la stessa impressione dell'astronauta di 2001, di sullo spazio, cioè di vivere nell'assenza. E tutto questo pieno di social, di tweet compulsivi, di opinionismo a tutti i costi, di manicheismo, di polarizzazione, tutto questo a chiacchiera, a non fatto che alimentare questo vuoto da 2001. Cioè tu dici è una giungla in cui in realtà poi c'hai proprio quella sensazione. È un rumore bianco, non distingo più niente, quindi ho la stessa sensazione di vedere un televisore rotto. Non mi arriva nulla. Mi arrivano le cose soltanto quando mi concentro su qualcosa che qualcuno ha scritto, disegnato, ideato. Ok, quando è, certo, certo. Quando è rielaborato, diciamo, quando è rimasticato da qualcun altro. Parliamo di Mastorna, Mastorna, scusami, aggiungo un'altra cosa. Mastorna, in realtà, la cosa incredibile è che è un film che le persone si fanno nella loro testa quando leggono la sceneggiatura. Sì, perché non esiste. Non esiste mai realizzato e questa cosa è pazzesca perché la sceneggiatura è scritta come se fosse un libro, fondamentalmente. Quando l'hai scoperta? Cioè come l'hai scoperta? Ho vari amici con varie passioni e ce n'è uno, si chiama Nicola Salvemini, vabbè è un Salvemini e viene da Molfetta così, ci chiamo Salvemini qui, sono come i rossi a Torino, diciamo, che nelle nostre finite chiacchierate a un certo punto parlavo della mia passione per otto e mezzo, lui mi ha detto dovresti leggere Il viaggio di Mastorna, che è un film che non è stato mai realizzato, ma esiste il libro, con tra l'altro un postfazione di Armando Cavazzoni sui vari purgatori, sui vari limbo, eccetera. Insomma, è stato un libro bellissimo perché sono entrato poi in questo viaggione onirico appunto di Fellino. Esatto. Che tra l'altro lui sosteneva che Mastorna era, no, la carattera Mastroianni torna, no? Eh beh, sì, 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 sì. Comunque scusa. Ah, grande. Siamo sempre lì in giro. In tema, in tema. Esatto. Ma oggi tu invece come spettatore cosa cerchi? Cioè quando vai al cinema o ti sbracchi sul divano, cioè sei onnivoro o vai su... No, sono onnivoro. In realtà non è vero. Sì, sono onnivoro nel senso che mi sforzo di vedere anche ciò che magari potrebbe a prima vista non interessarmi. Ah. Però... Cioè gli dai una possibilità? Do una possibilità, sì, sì. Quello che io faccio e ho fatto quotidianamente con la musica lo faccio anche con tutte le... Va da sé che se poi mi accorgo da subito se c'è qualcosa che non va. Cioè diciamo che non perdi tempo a vederti 38 ore di serie, ce lo capisci prima. No, no. Io poi le serie ne sono un po' allergico. A nessuna non c'hai... Allora, ti dico la verità. Sei soprano, tipo? No, niente. Non ho intendo tutto questo. È soprano però ti piacerebbe. Soprano però ti piacerebbe. Non ho dubbi. Allora, ti dico che c'è stata solo una serie che mi ha fatto vacillare la mia fede nella non serie, quindi nel lungometraggio. è del trono di spade che l'ho visto quando tutti ormai l'avevano visto e non ne potevo più di sentirne parlare. È un po' come Londra, che a Londra io ci sono andato quando tutti i miei coetanei hanno smesso di rompermi le palle con Londra. Partivano tutti a Londra e tornavano tutti fan del Regno Unito, tutti cambiati, tutti estroversi, tutti... E tu dice basta. Allora, per principio... Per principio, esatto. Quando hanno smesso, allora... Eh, devo dire che mi piace molto come scritto, ecco. Ritorniamo sempre alla scrittura. La sceneggiatura è fondamentale in tutto. Ovviamente anche la regia, però è fondamentale la sceneggiatura in tutto questo. però le serie non sono propriamente parte del mio... Però secondo me, allora, non tanto il soprano e Mad Men secondo me ti piacerebbe tanto perché è proprio sulla crisi dell'uomo contemporaneo a Mad Men e la roba tua. Tanto mi piace Mad Men in rapper, quello italiano. Ah, ok. Sì, sì. Questo è Mad Men è veramente bello, scritto benissimo. Tanto tu però anche con i tuoi video da sempre c'è una forte componente visiva, estetica, poi i vari registi anche da Rondinelli a le ultime cose. Quello invece quanto pesa e come ti ispira poi? Anche il Sendero è un video bellissimo. È difficile trovare un video tuo che faccia che dici no, 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 no. No, perché mi metto sempre un po' il becco nei video. Poi sono uno che secondo me non lo dicono ma secondo me sono considerato un po' un rompipalle dai registi. Perché so, non mi piacciono certe cose che magari sono classiche di un video, no? Oggi si sente spesso dire questo artista ha fatto un video bellissimo poi vai a vedere ed è un'americana cioè americanata nel senso negativo del termine cioè nel senso superproduzione superproduzione però non dice niente non accade nulla a livello di pensiero è solo estetica ma neanche perché poi alla fine a me quelle robe non piacciono cerco sempre di trovare un senso anche le cose che esprimo dal punto di vista visivo quindi ci metto molto ce n'è un preferito tra i tuoi i miei io devo dire che il pupazzo quello di tipo Mab e Teraforti dov'è il pupazzo l'hai salvato vive? il pupazzo è a casa mia insieme agli altri pupazzi sta bene in buona compagnia sta bene sta bene un Muppet minore bellissimo lo uso per avere un ascendente tra virgolette disdeiano verso i bambini che vengono a trovarmi con i loro genitori tiro fuori questa mascotte no però i miei video preferiti dei miei cambiano sempre ah ok adesso se dovessi portarmi uno sull'isola deserto sono indeciso sicuramente uno degli ultimi che però mi piacciono tutti nella stessa misura diciamo che allora per esempio il video di come Pripyat che probabilmente eh sì diciamo che quello è un video concettuale cioè è l'unico video in cui io sono fermo di tutta la mia carriera cioè è un video in cui io sono fermo e muovo solo la testa perché sono a corredo delle città fantasma dei luoghi fantasma che hanno simboleggiato la mia il mio umore insomma il mio spaisamento appunto e quindi ho deciso di essere parte dell'arredamento è ovvio che quando con il regista è venuto che questo era Fabrizio Conte Fabrizio Conte sì 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 che anche lui era molto eccitato da quest'idea di non fare una cosa solita no? di non fare il solito video dinamico dove ti muovi i sobracci fai invece no proprio fermi mobili a muovere solo la testa e a parlare appunto al vuoto concettualmente ci sta con quella canzone quindi secondo me funziona il video della scelta è un video molto elaborato con un sacco di rimandi di richiami di sottoletture quindi anche quello e anche il sendero per dirti con Michelle che era incinta e che era la metafora perfetta del racconto della vita secondo me diciamo sono ma anche quello fatto da Wall-E di Campione dei 90 cartone animati non lo so non riesco a trovare un altro che era molto bello Kina Taun anche sì 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 non lo so non riesco a trovarne uno comunque diciamo che se ti guardi indietro sei orgoglioso di tutta questa video che si c'è abbastanza abbastanza perché ho tentato sempre di fare qualcosa di personale esatto senti tu vabbè a parte il clamoroso cameo con Checo Zalone nel film però ti sei avvicinato poco avresti voluto fare di più di cinema oppure no non è il tuo e non ti interessa magari dietro le quinte mi piacerebbe non ho l'esigenza di mettermi davanti alla macchina quindi sceneggiatura o regia quello sì a me piace la scrittura quindi tutto ciò che è scrittura mi stimola mi eccita quindi non è necessario che io sia sempre dalla parte davanti davanti a fare il protagonista perché mi manca questa attitudine è stato quasi un incidente di percorso nella mia vita perché in realtà sei trovato davanti e ci sei rimasto ho visto che ci riuscivo quando sono salito sul palco la prima volta ovviamente sul palco io le prime volte soffrivo perché entravo in contrasto con il mio modo di essere sono molto timido quindi sul palco mi sentivo giudicato io odio sentirmi giudicato e quindi siamo sul palco ero sempre poi immagina i primi concetti quando fai festival la gente ti fa il dito medio non perché non per te ma perché stanno aspettando quello nuovo perché stanno aspettando l'headliner e io ho sempre vissuto con molta angoscia però col passare del tempo poi ovviamente ho superato tutto e sei rimasto là davanti se sono rimasto là davanti sono riuscito ho capito che quella cosa la riesco ad amministrare ma nella mia vita non è prioritario ecco io mi divertirei anche a stare al di qua tant'è vero che io sono anche l'autore delle basi mie perché mi piace produrre vabbè sei zappiano da quel punto di vista sei un po' zappiano tu eh diciamo che magari magari lo fosse eh tra l'altro ma se ti chiamasse oggi adesso ti chiamo un regista e dice Michele facciamo la sceneggiatura assieme per il prossimo film mio chi vorresti che fosse Michel Goddry ah è grande Michel Goddry tra l'altro ultimamente poi è un po' sparito però è stato un momento un po' sparito ma credo un genio anarchico sì un genio anarchico che ha una caratteristica che a me piace molto il ricorso all'artigianalità per cui lui quando si parla di effetti speciali di trovate usa sempre meno il computer sempre più ehm le cose sì le scenografie mobili insomma si inventa delle soluzioni alternative tra l'altro lui è un cartonist fondamentalmente credo che sia nato proprio come cartonist e poi si è si è evoluto ho visto quasi tutti i suoi film preferito sono indeciso forse l'arte del sogno ah non eternal sunshine evitando il titolo anche quello mi è piaciuto molto eternal sunshine of a spotless mind però l'arte del sogno l'ho trovato ancora più concettuale lì c'era una trama abbastanza decisa portarlo avanti invece portare avanti un film come quello che è un film onirico appunto come molti film di fellini sono diventano grotteschi e questo è quello che mi che entra più in sintonia con il mio modo di essere ma se il tuo film da isola deserta cioè stasera parti per isola deserta e porti un film solo che film ti porti 2001 adesso ah 2000 è però ma l'istruzione da deserta però vai in trip dopo è quello che voglio ma scusa ma tu non sei un nolaniano però non ti piace Christopher Nolan anche dipende anche Tenet non l'ho capito molto Inception è bellissimo Inception ecco Inception Inception sì che parla del sogno appunto del sogno io l'ho visto due volte perché la prima volta a ironia della sorte mi sono addormentato in sala non perché non perché fosse noioso il film attenzione perché in realtà ero in mezzo a un tour dovevo andare non mi ricordo dove ero stavo andando a Torino a registrare da Carlo Rossi quando facevo gli album con Carlo e una sera Carlo mi ha portato al cinema ma io ero appena tornato da un viaggio molto lungo e mi sono addormentato guardando Inception una cosa assurda che mi svegliavo con queste frasi dico ora sei alla terza fase del sogno avresti dovuto sognare di Caprio nel tuo sogno era perfetto il problema è che non avevo con me una trottola quindi non riuscivo a capire a capire se eri dentro o fuori poi l'ho rivisto per bene e devo dire che è un capolavoro sì anche io devo dire che è uno dei film che amo di più di nulla proprio perché a parte è molto affascinante perché c'è delle cose che non capisci anche sul rapporto uomo-donna con Marianne Cotillard dedicato ce ne sono tante poi mi piacciono i film che seguono degli schemi strani quindi l'elemento ma soprattutto diciamo uno dei film che quando l'ho visto mi ha lasciato veramente mi ha sorpreso ed è ovviamente un film sputtanatissimo cioè Pulp Fiction per il modo in cui è stato capace Tarantino di diciamo uccidere i personaggi principali ma in realtà farli rimanere perché si ritorna indietro e quindi con questi escamotage di regia molto interessanti ma tu sei il tarantiniano o fino a un certo punto io sono tarantiniano perché mi ho sempre visto in Tarantino allora Tarantino ha dalla sua non c'era mi interessa la parte sanguinaria di Tarantino cioè quella più palta no mi interessa mi interessano molto i dialoghi che secondo me sono quasi inarrivabili nel ritmo che hanno alcuni film come Hateful Eight si basano praticamente si regolano sui dialoghi e poi l'ironia latente di fondo che permea a lungo perché altrimenti se togliamo quella diventa un film gangster di quelli che purtroppo non incontrano si davvero assolutamente senti nel tour cosa ci hai messo di cinematografico c'hai dei clip cose immagini no 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 il tour più che vedere col fumetto che col cinema perché sono utilizzo degli oggetti in carta pesta tra l'altro ecco perché parlavo di artigianato prima di possibili punti in contatto con Gondri che cerco cerco miserabilmente di avere quindi c'hai degli oggetti di carta pesta vera sì 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 io sono praticamente collaboro con Danny Bianco con maestro carta pesta di Plutignano che mi diciamo ogni volta vado da lui e gli chiedo cose assurde lui prontamente me le consegna ti fa proprio dei pupazzi cosa ti fa sono pupazzi giganteschi per dirti a musei che avevo chiesto una matrioska gigante nella quale ero incastonato poi uscivo Prisoner 709 oltre alla carta pesta gli ho fatto costruire una enorme ruota per cricetti nella quale giravo in la quale camminavo una volta gli ho chiesto un pop up a dimensioni credo di alto due metri e mezzo o tre metri con diverse pagine che si aprivano tutto fatto in carta pesta c'era sempre per museica su un pezzo che si chiama Chinatown sulla scrittura gli avevo commissionato un pianoforte libro cioè la parte che si apre era in realtà un libro con i fogli insomma è bello come lavorare con un giocattolaio eh certo che può esattamente che può realizzare quello che gli chiedi a parte questo quest'anno abbiamo anche l'aiuto di Techset che fanno delle scenografie meno diciamo carta pestose se permettimi se si può dire però insomma ce ne sono tante ci sono tanti ecco perché parlo un po' di fumetto un po' perché ogni canzone è come se fosse un capitolo una vignetta si sviluppasse dentro una vignetta con costumi oggetti questo serve a me per divertirmi durante il tour di conseguenza al pubblico perché se mi diverto io si divertono gli altri e io ho la tendenza ad annoiarmi facilmente ho bisogno di di vedere intorno cose se t'annoi tu dici se annoio io se annoio esatto certo certo ma a colonne sonore mi hai pensato di scrivere una colonne sonore invece sì mi sarebbe molto piaciuto ma non sono mai riuscito non è mai arrivata un desiderata da nessuno però tu sono qui esatto diciamolo tu sei ufficialmente sul mercato come compositore di colonne sonore anche sì mi piacerebbe in realtà è un una spisa una bella spisa da provo sì non necessariamente cantandole ecco diciamo così no no proprio colonne sonore pura proprio score da sì 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 tra l'altro mi piace il minimalismo anche quindi usare 3-4 strumenti che in qualche modo sottolineano un umore ma i tuoi compositori preferiti invece di colonne sonore ce ne hai? Morricone 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 sì 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 Morricone poi intanto e poi ce n'è per esempio ce n'è uno che è Arca che non è un compositore di colonne sonore ma è un compositore di musica elettronica che secondo me potrebbe fare tranquillamente potrebbe anche insomma tirare fuori delle colonne sonore molto interessanti perché ha un utilizzo dell'elettronica molto evocativo è vero questi tappeti è vero fantastico ma anche usa anche le distorsioni in maniera poetica di solito la musica elettronica viene sempre impacchettata messa con la cassa in battere o comunque con un ritmo ossessivo e diventa sempre una roba invece in realtà la musica elettronica si presta tantissimo anche nonostante sia elettronica nonostante tantissimo l'emotività assolutamente l'ultima domanda Michele un film che consigli un film sconosciuto che consigli ai lettori di Hot Corn cioè tu dici andate a ritrovarvi quello perché potrebbe darvi delle sorprese o qualcosa che secondo te ha avuto meno successo di quello che merita in parte già quello di Gondry che hai detto fa parte della categoria non so se The Lobster ha avuto successo o meno The Lobster è uno di quei film surreali che ti piacciono che mi piacciono che mi è piaciuto tantissimo quindi ti piace l'Antimus oppure l'Hobster è buono l'Hobster e ne suggerisco un altro di un grandissimo regista ma forse il film meno conosciuto di Ina Ritu che è Beautiful Beautiful è un film a suo modo claustrofobico c'è sempre questa camera a mano dietro Javier Bardem ed è un film che mi ha lasciato veramente qualcosa dentro che non sono mai riuscito a decifrare ma un senso di malinconia pazzesco soprattutto l'inizio e la fine di quel film questo suo non voglio spoilerare no 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 però c'è questa poi c'è questa Barcellona Barcellona fotografata è un film diverso dal modo che hai in Arrito di raccontare però è un film molto suggestivo secondo me molto interessante dal punto di vista proprio della ecco io ho usato un termine claustrofobico forse non è proprio giusto ma lo utilizzo in maniera positiva cioè ti costringe a focalizzarti sulla storia di quest'uomo ma soprattutto su tutto il corredo è veramente un bellissimo film bene Lobster è Beautiful due buoni consigli e poi veniamo vediamo a vederti in tour tanto st'estate mi sa che non vedrai tante cose però di film no in realtà in realtà c'ho degli off che degli off ah ti spari sì sì mi sono già segnalato mi sono già segnalato tutto quello che tu vedrai va bene va bene dopo ti segnalo anch'io un paio di cose che secondo me ti piacerebbero come film un po' sconosciuti va bene grazie mille per il tuo tempo Michele buon viaggio come sei c'è in questo caso lo intraprenderò grazie mille grazie a te grazie